Valorizzazione dell'artigianato locale, soprattutto ripresa delle arti che si vanno perdendo. Su questo ha deciso di puntare il comune di Papasidero, che all'interno del progetto integrato di sviluppo locale contro lo spopolamento con a capofila Orso Marso e che conta sulla presenza di Aieta e Laino, ha ottenuto quasi 400.000 euro. Il PISL prende il nome di Le Strade degli Antichi Messiri del Mercurian, vivaio di idee e progetti di impresa per il rilancio economico e il contrasto allo spopolamento. La creazione di uno spazio produttivo di impresa relativo alle attività artigianali legate alla produzione dei cesti in doghe di castagno e vimini nel comune di Papasidero, dove si punta all'integrazione tra giovani e anziani per un passaggio di eredità che vuole essere spunto per lanciare un'economia zoppicante. Domani, a partire dalle 10.30, l'apertura delle buste per la giudicazione della gara d'appalto. Noi avevamo una vecchia struttura comunale, abbiamo avuto un finanziamento per fare un laboratorio sui cestini di vimini e ampliare questa attività artigianale. Su questa cifra abbiamo fatto una gara che andrà in porto sabato prossimo. Speriamo che ci sia una ditta, un'impresa che è in grado di farci fare un bel lavoro. Questo pisle è un pisle che lega il comune di Aieta, il comune di Papasidero e l'Aino Castello. Quindi c'è un percorso, ognuno ha fatto un lavoro diverso dal punto di vista artigianale. Aieta sui tessuti, sugli strumenti musicali, l'Aino Castello e noi sul Vimini. Quindi siccome è un programma proprio dell'assessore Mangini su questi paesi in via di spopolamento, siamo stati, come dire, incentivati a fare qualcosa proprio per cercare di fermare i giovani e dar loro la possibilità di avviarsi nel campo dell'artigianato. Grazie. 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 Grazie.